Ciao ragazzi bentornati di nuovo nel mio canale, oggi vediamo un'installazione abbastanza semplice del browser Google Chrome su distribuzioni basate su Debian, tramite terminale ovviamente quindi scaricheremo il pacchetto .deb che è quello dedicato alle distribuzioni Debian e andremo tramite terminale a lanciare l'installazione apriamo subito il browser, quindi di solito le distribuzioni Linux vengono date con il browser Firefox installato, quindi Google Chrome download, andiamo nel download, download Chrome, perfetto, lui rileva il sistema operativo Linux e ci suggerisce lo scaricamento del pacchetto Debian, accetta installa, salvo il file, lo starà scaricando nella cartella download, perfetto chiudo il browser, close tab, si, vado nella cartella download, eccolo qui il mio pacchetto mi apro un terminale, sudo dpkg techi, sa per install, tab, do il tab, essendo l'unico file me lo suggerisce per l'installazione, quindi è il pacchetto .deb, do invio e l'installazione parte, attendiamo un attimo che finisca il processo di spacchettizzazione e installazione vediamo qua e digitiamo Google, eccolo qui, abbiamo il nostro Google Chrome installato sulla distribuzione questa è una Kali Linux, però potete fare tranquillamente su, non so, anche su una reddata perché il pacchetto RPM è presente, quindi su Fedora, lo potete fare anche su OpenSUSE, su Debian e su tutte le distribuzioni ovviamente, diciamo, derivate di Debian, ecco qui abbiamo il nostro Google Chrome sul nostro sistema Linux, ciao ragazzi, sul piccolo suggerimento ovviamente iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un bel like, grazie